Gentili telespettatrici e telespettatori ben ritrovati al Sasso nello Stagno. Ci avviciniamo al 25 aprile, giorno in cui celebreremo il 79esimo anniversario della liberazione del nostro paese dall'occupazione nazista e dalla dittatura fascista. Con il passare degli anni e il venir meno dei protagonisti di quella stagione storica, molti si chiedono se abbia ancora senso riproporre riti che rischiano di naufragare nella retorica o in una stanca ripetitività. Ed è una delle domande che vorrei rivolgere all'ospite di questa puntata che è la dottoressa Elena Mastretta, direttrice scientifica dell'Istituto Storico per la Resistenza e la Società Contemporanea di Novara del VCO che è intitolato a Piero Fornara. Dottoressa Mastretta, anzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito. Ecco, le chiederei anzitutto di raccontarci brevemente cos'è l'Istituto Storico? Qual è il suo scopo? Che cosa fa? L'Istituto Storico nel quale lavoro è affiliato alla rete nazionale degli istituti storici, che fa capo a quello che ha sede a Milano intitolato a Ferruccio Parri, che fu proprio l'ideatore di questa struttura ramificata sul territorio nazionale. E lo scopo prioritario dei nostri istituti è quello di raccogliere, conservare e studiare le carte della Resistenza, così perlomeno era all'inizio. Poi con il tempo alla dicitura Istituto Storico della Resistenza si è affiancata a quello e della Società Contemporanea. L'Istituto di Novara sorge nel 1965 in occasione del ventesimo della liberazione. Ne sono fra i promotori e i fondatori molti dei protagonisti della guerra di liberazione, tra cui Piero Fornara, Cino Moscatelli, il capitano Massana. Insomma, quindi anche nella nostra zona si forma questo istituto che ancora oggi raccoglie, conserva, studia le carte della Resistenza e che poi nel tempo ha acquisito numerosi altri archivi, soprattutto personali o per esempio quelli della Camera del Lavoro, che vengono messi a disposizione di tutti coloro che vogliono occuparsi di storia contemporanea. Ecco, all'Istituto aderiscono le province e anche molti comuni, vero? Sì, siamo un consozio di enti pubblici con competenza sulle due province, quella di Novara e quella del Verbano Cusiossola, quindi fanno parte con una quota maggioritaria la provincia di Novara, la provincia del VCO, poi il comune di Novara, il comune di Verbania e via via a scendere un'ottantina di comuni collocati nel territorio. E c'è un consiglio di amministrazione con un presidente? Esatto, c'è un consiglio di amministrazione che è stato rinnovato lo scorso anno e per la terza volta consecutiva la presidenza è stata affidata a Paolo Cattaneo. Senta, l'Istituto di cui lei è direttrice scientifica è intitolato, abbiamo detto, a Fornara. Ecco, chi era Fornara e perché proprio a lui è stato intitolato l'Istituto? Piero Fornara, diciamo, è stato uno dei protagonisti della lotta di liberazione nel territorio novarese. Lui era nato alla fine del 1800, nel 1897 per la precisione a Cameri, come il padre aveva studiato medicina, era un pediatra di grande fama che insomma aveva anche avuto la possibilità poi di insegnare all'università, possibilità che gli era stata preclusa perché un grande antifascista. E' stato l'animatore, diciamo, del CLN novarese, sebbene poi non ne abbia mai davvero fatto parte, perché all'indomani dell'8 settembre è la persona che subito è andato a cercare gli antifascisti e ha provato a organizzare la resistenza. Fu il primo prefetto dopo la liberazione e quindi a lui è stato poi intitolato l'Istituto che a tutt'oggi ha la sua sede novarese in Corso Cavour 15, in quella che era stata la sua casa. Senta, veniamo alla domanda che avevo anticipato introducendo questa puntata. Che senso ha, a 79 anni di distanza, ripetere celebrazioni spesso ripetitive e con minori sempre presenze? Allora, questa è una domanda che onestamente chi si occupa di questi temi si fa con una certa frequenza. Il problema della partecipazione è un problema che sentiamo molto alto, soprattutto perché si nota che la partecipazione non arriva a coinvolgere così numerosi come ci piacerebbe, come tutti noi desidereremmo, soprattutto i giovani e le giovani. Quello che si cerca di fare è, pur mantenendo un certo protocollo che è richiesto nelle manifestazioni ufficiali, è quello con il lavoro molto capillare che noi facciamo soprattutto nelle scuole, di provare a spiegare quali sono le ragioni della necessità di fare anche delle cerimonie pubbliche e quindi avvicinare maggiormente questa fascia d'età ai momenti extrascolastici, perché poi purtroppo spesso le celebrazioni cadono in momenti in cui è vacanza, nel caso del 25 aprile, o comunque non è così semplice, anche perché bisognerebbe affidarsi alle famiglie e poi coinvolgere i ragazzi e le ragazze. Però il tentativo è continuo e laddove si riesce a lavorare bene a scuola, molto spesso la risposta è comunque la partecipazione. Ma questa è una domanda che non vale solo per il 25 aprile, pensiamo al 4 novembre, noi celebriamo il 4 novembre, la fine dell'aprile mondiale, la riunificazione dell'Italia definitiva, però effettivamente il rischio è proprio quello, che rimangano queste cerimonie con il sindaco, con la fascia tricolore, la banda e tutto finisce lì. Per esempio, laddove c'è un consiglio comunale dei ragazzi, è chiaro che tutto è più semplice. Adesso che andiamo verso la celebrazione di tanti ottantesimi, insomma, perché fra il 1944-45 sono successe cose importanti, quindi sono mesi che lavoriamo a tutto questo, è chiaro che si sta comunque organizzando una partecipazione allargata, che prevede anche l'inserimento, insomma, in quelle che sono i ptoff delle scuole, proprio di una partecipazione diretta. Hai parlato di, ci stiamo avvicinando agli ottantesimi, il primo sarà quello della Repubblica dell'Ossola, gli 80 anni. Gli 80 anni di questa esperienza meravigliosa, c'è da diversi mesi attivo presso il Comune di Domodossola un tavolo di lavoro che vede tutti quelli che si occupano di questi temi coinvolti, una riunione c'è stata, insomma, anche ieri, e quindi si sta lavorando in questa direzione, devo dire, il programma che è quasi nelle sue fasi finali di stesura, è un programma ricco, lungo, che prevede non soltanto i momenti ufficiali, ma per esempio teatro, musica, presentazione di libri, cineforum, e quindi ci si aspetta il coinvolgimento il più allargato possibile. Senta, uno dei compiti dell'Istituto è quello di raccogliere e conservare, per tramandarlo anche alle generazioni che non c'erano, storie, voci, immagini della stagione della Resistenza. Ecco, come avete svolto, come state svolgendo questo compito, e che patrimonio avete presso l'Istituto? Allora, l'Istituto nasce appunto proprio con uno scopo conservativo, soprattutto di carte d'archivio, e quindi c'è un archivio che conta diverse centinaia di metri lineari di fondi. Per esempio ci sono i fondi delle Garibaldi, ci sono fondi personali, quello di Fornara, di Iacometti, quello della famiglia Bonfantini, citavo prima il fondo della Camera del Lavoro, esiste un fondo manifesti. Poi ci sono i fondi fotografici, questi sono numerosi e interessanti. Andiamo dalle guerre di conquista in territorio africano, a per esempio tutta la documentazione fotografica di Umberto Bonzanini sulle giornate della liberazione di Novara, fino ad arrivare molto più vicino a noi. Lo scorso anno, con una operazione importante, noi abbiamo acquisito l'archivio di Mario Finotti. Mario Finotti è un fotografo giornalista, insomma che moltissimi conoscono, ancora attivo a Novara, che in 50 anni di attività e di carriera ha naturalmente, soprattutto con il passaggio al digitale, messo insieme un archivio che effettivamente permette di conoscere molto bene l'ultimo mezzo secolo di storia novarese. Mario con molta generosità si è rivolto a noi, l'archivio è stato acquisito per ora soltanto nella parte digitale, perché per l'acquisizione dell'analogico serve attrezzarsi un pochino di più, e la cosa, per esempio, che abbiamo subito fatto è stata quella di organizzare una mostra selezionando una cinquantina di scatti che proprio andasse a ripercorrere questo arco temporale. Successivamente lui e Renato Ambiel a partire da questa selezione hanno scritto un testo, che come la mostra si intitola Ho visto cose, la mostra sta girando e il testo è stato presentato, insomma, in numerose località. Noi poi abbiamo una biblioteca che è in parte una biblioteca storica, sono circa 35 mila volumi, ma ci sono anche testi molto recenti, facciamo continuamente acquisizioni, c'è la parte di emeroteca con i periodici storici, i giornali clandestini, tutto quello che si riesce e che è più antico e prezioso viene digitalizzato e messo a disposizione attraverso delle banche dati, poi ci sono le pubblicazioni. Noi curiamo la collana di studi storici della Casa Editrice Interlinea, l'ultimo volume che è stato pubblicato è quello su Alberto Iacometti, proprio a partire dalle carte che conserviamo noi. Poco prima c'era quello su Tibaldi. Tibaldi, è stata un'altra pubblicazione che si è inserita, quella però non prende soltanto dai nostri archivi, ma Andrea Pozzetta, che è la persona che si è occupata della stesura, ha frequentato anche l'archivio del Nazionale a Milano e poi l'archivio privato di Tibaldi. Dopodiché collaboriamo da quasi cinque anni ormai alla rivista L'Impegno, che è pubblicata dall'Istituto, quello di Biella Vercelli, perché comunque la territorialità ci permette... Sì, certo, la Valsesi è... Esatto, e lì quindi escono le ricerche di chi fa parte del nostro comitato scientifico o di chi lavora sui nostri documenti più in forma breve. Abbiamo avviato da poco una rivista online, sempre con lo stesso scopo di rendere pubbliche le ricerche, perché poi è chiaro che si lavora tanto da questo punto di vista negli istituti storici, però bisogna anche mandare all'esterno ciò che si fa. Abbiamo diverse mostre che prestiamo ai comuni soci o non soci del nostro consorzio, c'è la mostra di Finotti, c'è una mostra su quella che è stata la strage diffusa degli ebrei in questo territorio, c'è una mostra sulle leggi razziali, abbiamo realizzato a dicembre dell'anno scorso una piccola mostra che si amplierà nei prossimi mesi su Mario Bonfantini, perché noi conserviamo l'archivio della famiglia Bonfantini, ma al primo piano della sede dell'Istituto è conservato e ricostruito lo studio di Mario, con tutti i suoi libri e gli arredi. Dopodiché facciamo le attività con le scuole. Questo ne parliamo perché è un punto importante, un solo rammarico. Purtroppo loro non c'erano le televisioni locali, se no avremmo avuto anche la testimonianza delle immagini. Abbiamo comunque delle videointerviste e l'aspetto probabilmente in questo momento più sotto l'occhio dei ricercatori è quello delle raccolte di interviste che da audiocassette insomma abbiamo quasi completamente riversato. Questo lavoro di riascolto delle interviste di questa campagna soprattutto degli anni Ottanta è stato fatto recentemente da Benedetta Tobagi. Dopo la scrittura del libro, per cui era venuta in archivio consultando soprattutto le fotografie, Tobagi ha proprio fatto il passaggio al podcast che è questa modalità che adesso piace tanto soprattutto alle giovani generazioni e ha ascoltato gli audio originali di cui aveva trattato insomma precedentemente e sono anche riportati nel podcast. Benissimo. Senta, ecco, la scuola. La scuola è sicuramente un luogo forse più adatto per tramandare la storia come memoria collettiva e anche come lezione per il presente. Ecco, come lavorate con le scuole? Allora, il lavoro con le scuole è un lavoro capillare sul territorio. In alcune situazioni particolari le scuole vengono anche diciamo accolte per piccole visite all'interno della struttura ma soprattutto siamo noi che andiamo direttamente nelle sedi scolastiche quelle appunto delle due province. Si incontrano i ragazzi e le ragazze dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado naturalmente con linguaggi, modalità diverse a seconda dell'età e questo ci permette di far conoscere i nostri materiali ma soprattutto di far conoscere la storia contemporanea che non sempre è a scuola insomma a livello curricolare oggetto così di studio e di attenzione. Facciamo poi tutto un lavoro di formazione dei docenti perché siamo convinti che sia importante che gli esperti, le persone che si occupano soprattutto di questo si confrontino direttamente con i più giovani ma è altrettanto importante dal nostro punto di vista dare agli insegnanti gli strumenti perché questa non sia una lezione calata dall'alto ma qualche cosa che poi può essere utilizzato sempre. L'attività con le scuole diciamo è regolamentata da una convenzione che lega la rete degli istituti storici piemontesi all'ufficio scolastico regionale. Ogni istituto del Piemonte ha uno, in alcuni casi due, docenti in distacco per una convenzione con il MIM. Io sono la direttrice scientifica ma sono anche la docente distaccata dal Ministero proprio per occuparsi di queste tematiche nell'Istituto Piero Fornara e a sua volta poi la convenzione è allargata attraverso la rete Parri a livello nazionale. Si fanno cose molto diverse insomma da laboratori che analizzano direttamente le fonti archivistiche, fotografiche, documentali alla scrittura delle voci di Wikipedia alle passeggiate sul territorio quindi cercando comunque una didattica partecipata e sempre anche un'attenzione al locale. Diciamo che quello che faccio a Ornavassu o a Vogogna non è esattamente quello che poi propongono a Meina o a Novara. Certo. Senta, e come reagiscono i giovani? Allora, l'intervento di una persona che arriva dall'esterno è sempre qualche cosa che crea aspettativa e che quindi viene accolto con attenzione e curiosità. Più i bambini sono piccoli più il loro livello di interazione è alto. Teniamo conto che sono comunque passati 80 talvolta 100 anni dalle cose che noi andiamo a raccontare quindi questi bambini soprattutto non hanno più alcuna possibilità di una testimonianza diretta in famiglia. Chi è un po' più grande e magari ha già affrontato attraverso le lezioni o i libri di testo questi argomenti mantiene una certa curiosità e sfrutta l'occasione diciamo per fare tutta una serie di domande anche più specifiche e di approfondimento. Però funziona sempre molto bene il rapporto con gli studenti. In particolare quelli più grandi che frequentano la secondaria di secondo grano hanno questa grossa possibilità in Piemonte. Da 44 anni quasi esiste il concorso regionale di storia contemporanea che è un'assoluta eccellenza sul territorio nazionale e permette ai ragazzi di esprimersi attraverso i linguaggi che loro trovano più vicini la fotografia, il podcast, il sito internet, l'elaborato per raccontare delle proposte di traccia che noi tutti gli anni formuliamo. E effettivamente soltanto durante la pandemia è un po' calata l'adesione al concorso però per ragioni assolutamente oggettive perché quest'anno erano veramente tanti i partecipanti scegliere i lavori che poi sono stati premiati col viaggio di istruzione è stato anche abbastanza difficile. Senta, io cito vorrei citare questa frase ricordare questa frase se volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione andate nelle montagne dove caddero i partigiani nelle carceri dove furono imprigionati nei campi dove furono impiccati dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità andate lì o giovani col pensiero perché lì è nata la nostra Costituzione sono parole di un grande padre costituente Piero Calamandrei si rivolgeva così nel 1955 a un gruppo di studenti milanesi credo che valga ancora questo questo itinerario allora questo discorso di Calamandrei e gli studenti è veramente secondo me uno dei pezzi più belli proprio di questo tentativo di coinvolgere i giovani sulla presa di coscienza proprio di ciò che è stato quel particolare periodo storico è un invito sicuramente ancora valido anche se bisogna tenere conto che nel tempo l'atteggiamento verso i luoghi di memoria è un atteggiamento che si è modificato come tutta la storiografia insomma ha subito un'evoluzione quindi mentre c'è stata una fase in cui andare nei posti sembrava l'unica cosa che si potesse assolutamente fare e questo ha anche portato un po' a un fenomeno se vogliamo di massificazione soprattutto nei confronti di alcune tipologie di questi viaggi di queste visite si sta un po' riscoprendo e questo è merito soprattutto di Alberto Cavaglion che ha fatto profonde riflessioni 4-5 anni fa su quale potrebbe essere l'atteggiamento migliore per avvicinarsi a questi luoghi che lui chiama contaminati e che quindi suggerisce sì di continuare a frequentarli a studiarli ma non proprio entrandoci subito dentro ma avendo un atteggiamento di attesa sulla soglia prima bisogna acquisire alcune conoscenze e poi con questi che sono luoghi che hanno visto tanta sofferenza ci si può effettivamente meglio relazionare noi siamo qui in questa sede della televisione a poche centinaia di metri dal Sacraio di Fondotoccia ecco anche questo questo è uno dei luoghi della memoria impressionante vedere anche solo quei nomi molto ben gestito che è stato costruito proprio con l'intenzione di fare da una parte memoria di ciò che è successo la creazione del parco le varie sculture e i vari monumenti che sono ospitati nel Parco della Pace al suo interno ma contemporaneamente si è costruito un edificio che ospita una biblioteca un'emeroteca c'è la galleria della memoria e quindi diciamo non è la visita toccata e fuga ma è la possibilità di avere un momento di studio di riflessione di confronto che quindi porterà sicuramente a una crescita della coscienza credo che non dobbiamo avere paura della verità non tutti gli italiani festeggeranno celebreranno il prossimo 25 aprile ecco e quella che dovrebbe essere quindi una storia condivisa purtroppo è una non è l'unica è una delle tante storie che invece dividono sono segni di contraddizione qualcuno dice anche perché forse nel passato la si è un po' troppo caricata di strumentalizzazioni politiche o partitiche questo è stato forse un errore cioè appropriarsi di questa memoria da parte di alcune parti politiche questo è probabilmente il nodo cruciale per cui il tema della resistenza continua a essere oggi ancora in qualche modo più divisivo di altri di altri certo il tentativo che da storici noi facciamo e questa è anche un po' la mission degli istituti che sono a partitici e a politici è quello proprio di andare a ricostruire quelle che sono le differenti interpretazioni storiografiche quello di capire le diverse posizioni da cui chi ha aderito alla resistenza è partito ma mettendo poi sempre in rilievo come di fatto il fine fosse un fine comune certo la lezione degli anni 90 che un po' ha segnato la direzione che citava lei è quella insomma del grosso studio che ha fatto Pavone che si chiamava proprio guerra civile insomma questa definizione chiaramente sottolineava il fatto che la situazione italiana è poi evoluta in un senso molto particolare per cui la compresenza del regime di Salò all'occupazione nazista sul territorio e contemporaneamente lo sviluppo dopo l'8 settembre della guerra di liberazione ha effettivamente creato una situazione che ha dato poi esito a delle interpretazioni che ancora oggi un po' collidono beh penso ad esempio a tutto il tema delle foibe questo tema anche questo è stato strumentalizzato da un'altra parte politica no? e questo forse è proprio l'errore che si commette l'esistenza appartiene a tutti il dramma delle foibe appartiene a tutti non è che appartenga a una parte solo ecco anche lì è importante su quello che è stato l'esodo e il tema del confine orientale il lavoro che soprattutto negli ultimi anni perché questo è partito in ritardo diciamo gli studi sulla resistenza almeno a livello di memorialistica partono già nella seconda metà del 1945 gli studi su ciò che succede a est non decollano non decollano subito però ci sono storici come Pupo che hanno fatto un grandissimo lavoro di ricostruzione ecco è chiaro che se ci si limita alle vulgate poi possono anche crearsi dei frantendimenti la lettura attenta di studi importanti e documentati aiuta a fare molta più chiarezza ma non è un caso si ricordiamo gli anni delle biegate rosse né con le BR né con lo Stato quindi purtroppo anche di fronte i drammi spesso e volentieri prevale la faziosità poi prevale la strumentalizzazione in realtà sono tutte memorie condivise che sia che uno li abbia vissuti da una parte che dall'altra perché alla fine però bisogna ricomporre tutto questo assolutamente senti il prossimo 25 aprile lei sarà l'oratore l'oratrice ufficiale per le celebrazioni a Domodossola diciamo che senza fare nessun campanilismo però certo Domodossola è un nome che nella storia dell'esistenza ha un peso assolutamente ecco non voglio fare uno scoop ma lei ha già immaginato quale sarà il filo conduttore del suo intervento chiaramente il motivo per cui poi ci si rivolge a chi come me fa questo lavoro è quello non tanto magari di avere una attualizzazione o non soltanto ecco di avere una visione in qualche modo partigiana e quindi io ho cominciato a lavorare al discorso senza anticipare nulla di quello che sarà poi oggetto di analisi nei prossimi mesi quindi senza soffermarsi troppo sui 40 giorni cercherò di fare una ricostruzione storica proprio a partire dalla domanda perché festeggiare ancora oggi il 25 aprile senta Domodossola la Repubblica dell'Ossola così mi viene chiamata fa parte di quell'antologia di zone libere ecco ma perché quella della cosiddetta Repubblica dell'Ossola è originale ed è particolare rispetto ad altre allora le caratteristiche principali che distinguono l'esperienza ossolana dalle altre sono la vicinanza con la Svizzera che permette il rientro di molti antifascisti diciamo che si erano spostati in esilio non le voglio portare via le sorprese che dirà Domodossola ma il tempo sta terminando e quindi io devo davvero ringraziarla per questa sua chiacchierata ringrazio tutti voi che ci avete seguito come sempre l'appuntamento è sempre qui al Sassonello Stagno fra sette giorni grazie a tutti grazie a tutti